Siamo rimasti in sette davanti. Intanto continua il quartetto a cercare di guadagnare nei confronti dei primi seguitori. Marco Saligari. Sì, il quartetto è formato da Lopez Boaro e Landa Satterling. Poco fa, mi sono fermato, ho preso un riferimento cronometrico Andrea e si è fermato a 38 secondi il loro vantaggio nei confronti del gruppo Nibali e Roglic. 38 secondi è un bel vantaggio. È un vantaggio e sentendo le parole di Francesco Pancani hanno deciso di fermare, togliere tutte le possibilità. Adario Catardo decisione.